Resta il nodo coprifuoco, il Consiglio dei Ministri alle prese con il decreto Covid, con le nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Il provvedimento resterà valido dal 26 aprile al 31 luglio. Il Governo dovrebbe mantenere il coprifuoco alle 22 all'interno dell'esecutivo, tuttavia le Regioni e parte della maggioranza spingono per spostarlo alle 23. Nel decreto viene consentito di pranzare e cenare all'aperto, liberi anche gli spostamenti tra Regioni gialle e spostamenti per turismo tra le Regioni arancioni e rosse, con certificazione. Si possono andare a trovare parenti ed amici ancora in due fino al 1 maggio, quando il numero viene raddoppiato. Dal 26 aprile in zona gialla ha consentita qualsiasi attività sportiva, ma non all'uso dello spogliatoio. Tornano le piscine all'aperto il 15 maggio, le palestre il 1 giugno, a cinema e teatri da lunedì consentiti gli spettacoli all'aperto, con capienza al 50% e dal 1 giugno anche gli stadi al pubblico, ultimi a riaprire invece fiere, centri termali e convegni. Occhi puntati sulla riapertura delle scuole, dopo la decisione di non farle ripartire con il 100% degli alunni in classe, si tratta di una retromarcia del Governo costrettora al rientro graduale con le superiori in classe al 60%.